Oggi siamo qui all'Archivio di Stato per inaugurare il restauro di due ambienti che sono il refettorio d'inverno e le ex cucine. E questo chiostro, che è un chiostro che è sempre stato, diciamo, poco aperto al pubblico sia quando era convento, sia quando c'era l'Archivio di Stato. Questo è il convento dei Frari, aveva due chiostri, quello della Trinità che era un chiostro aperto dove c'era un pozzo dove anche la popolazione poteva attingere l'acqua e questo chiostro qui che invece era chiuso dove c'era un pozzo che era dedicato solo ai Frati. Abbiamo restaurato tutta la macchina da pozzo e abbiamo realizzato una canalizzazione che permette ai Frati di irrigare gli orti con l'acqua piovana che viene raccolta nel pozzo. Ecco, speriamo che questa qua possa essere un'apertura, diciamo, dei locali che erano poco conosciuti e poco frequentati, che diventi un'apertura alla città dell'Archivio di Stato.